In questi giorni AMA sta intervenendo oltre che sulle spiagge, per la pulizia delle spiagge, anche per il lungomare, quindi il ripristino della vegetazione, il diserbo, la sistemazione. Sì, è l'attività che AMA sta mettendo in campo e che fa parte del piano mare, un'attività di incremento stagionale di azioni che riguardano le attività fondamentali di AMA, quello della raccolta, della pulizia, dello spazzamento, anche le attività di diserbo che si combinano con la nuova attività di presidio degli arenini. Si tratta di mettere a sistema in maniera sinergica attività tradizionali di AMA e anche una nuova attività, questo a favore della migliore godibilità delle spiagge e del territorio. Questo sarà complementare alle altre attività che saranno messe in campo per rendere vivibili e godibili da parte di tutti noi le spiagge di Ostia. C'è l'attività di pulizia delle spiagge, da quest'anno affidata ad AMA, ma l'attività di AMA non si ferma semplicemente a questo. In questi giorni si stanno dedicando anche all'attività di diserbo del lungomare, unitamente alle ditte incaricate dal municipio. Una serie di interventi quindi per la messa in sicurezza del lungomare con la manutenzione del verde? È un'attività di messa in sicurezza perché le aiuole dello spartitraffico centrale erano diventate ormai troppo grandi. Chiaramente è sia un discorso di sicurezza sia un discorso di decoro per prepararci al meglio alla stagione estiva. Parallelamente al termine della parte centrale avverrà tutta un'attività di manutenzione della parte laterale, quindi i cosiddetti giardini storici, per proseguire verso il centro. E parallelamente nell'entroterra ci sono delle ditte che si stanno occupando della manutenzione dei parchi principali, quindi sfalcio dell'erba che anche con questo tempo ha raggiunto veramente altezze importanti, quindi stiamo intervenendo anche su tutto l'entroterra.